Ciao a tutti, un nuovo video haul da Aliexpress, ma prima sigla! Ciao a tutti, un video haul da Aliexpress, non mi è ancora arrivato tutto, però ho pensato bene di farvelo vedere, come ben sapete volevo fare una premessa, io da Aliexpress non compro gel, li ho comprati tempo fa e l'effetto sulla pelle non mi è piaciuto per niente, per cui ho preferito investire in gel di qualità maggiore, io per esempio ho avuto un'esperienza poco carina in cui mi sono gonfiate le mani applicando il gel della Cannini, quindi assolutamente no, non li adoperò più. Andiamo a farvi vedere prima di tutto una cosa che ho preso dal gruppo Clem, è la mia solita tintura la 7,43 che rappresenterebbe il biondo rame dorato, che è quello che appunto portora, me lo sono preso come scorta, inoltre per passare bene dietro il colore ho deciso appunto di separare le ciocche con queste piziotte, quindi anche un video haul gruppo Clem. Andiamo a vedere cosa ho preso e cosa mi è arrivato per prima da Aliexpress. Da Aliexpress mi è arrivato questo bellissimo album in cui ho deciso di mettere tutti i pochi water decals che possedevo, ecco il qui. E fra i decals ho preso involontariamente un foil effetto piccio sempre su Aliexpress e infine questi water decals effetto marmo, visto che comunque non sono brava a fare l'effetto marmo quindi ho deciso direttamente, ripeto, di migliorare la struttura e qualsiasi effetto mi fosse piaciuto di prenderlo come water decals o sticker 3D. Andiamo a una cosa di cui appunto vi voglio aggiornare. premetto avevo parlato del fatto che mi avevano rubato nella posta, convinta al racconto di mio marito che fossero i pennelli che aspettavo per il trucco, mentre in verità era un solo pennello ed era appunto per la stesura gel. Nel momento in cui, come me ne sono resa conto? Nel momento in cui mi è arrivato il pacco con tutti questi pennelli da trucco che sono morbidissimi, veramente veramente morbidi, sono rosa e stanno sostituendo egregiamente, infatti ci ho fatto il trucco di oggi con la Topax della Obsession Palette della Uda Beauty. Detto fra di noi mi ci trovo benissimo. Sono pennelli di tutti i tipi e generi. infine, e questo ve lo faccio vedere come pezzo forte, ho preso questo armadietto per tenerci sempre su Aliexpress che mi è arrivato super imballatissimo per metterci i semi permanenti. Bene, ragazzi, col mio haul ho terminato spero vi sia piaciuto, se vi è piaciuto like e iscrivetevi e alla prossima! Ciao!